Incessanti litigi. Rappresentava anche un'evasione dagli incessanti litigi con Eva. Sì, quella noiosa festa organizzata dalle signore del comitato di beneficenza mi avrebbe risparmiato le aggressioni verbali della mia compagna, che si sarebbe limitata a poche battutine cattivelle. E andammo alla festa di beneficenza. Eva non sapeva esattamente quale fosse lo scopo benefico. Per lei la misura della nobiltà di una causa era la pregnanza sociale delle colleghe del comitato. Io sovvenzionavo fortemente la sua esistenza tra le signori importanti. Fino a quando le dissi, Eva, a te della beneficenza non interessa nulla, tu la fai per prendere il tè con le signore. Eva non accusò il colpo, mosse la fiammeggiante chioma rossa striata di grigio e disse, Io per la beneficenza lavoro e come, perché continuo a stare con te che non amo. Ammisi che anche il sacrificio di Eva era beneficenza.